Buonasera e benvenuti all'Atel Tiziano, dove questa sera ci sarà la premiazione di alcuni artisti che verrà appunto riconosciuto attraverso un riconoscimento per la propria arte. Buonasera, io adesso sono con noi, c'è una dei nostri artisti che verrà insegnita. Ci dica il suo nome, il vostro nome. Mon nome è Kitty Olay e quindi io abito a Parigi, sono francese. Le vostre emozioni devono essere qui, le vostre emozioni devono essere qui. C'è un grande buonheur di essere qui per questo prix, sono veramente molto onorata e io sono anche, dopo alcuni giorni, e io adoro la region. Io vedo con buonheur la regione di Poulle che non conoscevano. Parliamo del vostro arte? Io sono peintre, io faccio la peintura abstrazione, ha molto a vero con la danza, perché ho fatto molto da danza anche, e ho molto viaggiato, e ho exposito in molti paesi differenti, come l'Inde, il Brésil, la Chine, il Canada, la Finlandia. Quindi ci ha molto a vero anche con le diverse culture del mondo, ma la prima cosa, ci ha a vero anche con il gesto e con la danza. Grazie, grazie a tutti con noi. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un'altra artista che ritirerà due premi, Kitty Olley. Grazie a tutti e grazie per l'academia, e specialmente a Maria Torelli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Premio Lau Conte e premio Baldolai.